buongiorno a tutti e benvenuti a questo quattordicesimo appuntamento vi chiedo solo un attimo di pazienza che provo a condividere eh le slide eccoci qua buongiorno a tutti ben trovati siamo in addirittura di arrivo questo è il quattordicesimo appuntamento del ciclo lezioni d'Europa eh dell'edizione duemila e ventidue che è dedicata a una panoramica ai fondi europei nella programmazione corrente ventuno ventisette eh alle fonti di eh informazione oggi avremo eh come eh relatori eh Claudia Salvi che è la coordinatrice del nostro centro Europa Direct Roma Innovazione che appunto farà una panoramica introduttiva ampia ed esaustiva eh dei programmi comunitari quindi della distinzione fra fondi SIE e fondi programmi a gestione diretta e poi interverranno eh dei colleghi della Digireggio eh Matteo Salvai che presenterà il portale di informazione Inforeggio e Roberto Musumeci del Coision Team che presenterà appunto il portale eh il nuovo portale eh su eh gli progetti finanziati a livello territoriale. Relatori che ringraziamo per la disponibilità e per il contributo che daranno alla lezione di oggi. Eh siete numerosissimi e molti di voi hanno seguito l'intero ciclo assiduamente per questo vi ringraziamo proprio perché lezioni d'Europa è diventato un appuntamento diciamo fisso del giovedì che ci ha accompagnato attraverso quindici appuntamenti l'ultimo è appunto giovedì prossimo e sarà dedicato al tema della progettazione quindi vedremo insieme eh come presentare eh un progetto un'idea di progetto e come partecipare quindi a una call for proposal nell'ambito dei eh programmi a gestione diretta ai programmi eh tematici. Avete visto che come al solito tergiversiamo per consentire ai numerosi partecipanti eh iscritti a questo webinar con un video eh musicale. Oggi abbiamo aperto con un con un video simpatico che proprio introduceva il tema delle eh fonti di informazioni di come informarsi e quindi oggi vedremo come e dove trovare tutte le informazioni in merito alla programmazione ventuno o ventisette. Io molto brevemente vorrei darvi solo qualche comunicazione di servizio ma eh ripeto molto brevemente per non sottrarre eh tempo prezioso ai ai nostri relatori. Molti di voi chiedono sempre l'attestato di iscrizione quindi vi ricordiamo che l'attestato è scaricabile eh direttamente dal portale venti pia dalla sezione eh i miei eventi eh previa compilazione di un questionario di gradimento vi verrà inviata da parte dello staff una mail nel momento in cui attesteremo la vostra partecipazione subito dopo la ricezione di questa mail vi invitiamo appunto a compilare il questionario di gradimento immediatamente dopo potrete ehm scaricare il appunto l'attestato. Attestato che è per poter essere scaricato indispensabile che eh gli utenti interessati si siano prima di tutto regolarmente registrati al al webinar quindi attraverso eh la procedura di iscrizione di eventi pia è fondamentale che la partecipazione sia tracciabile quindi che ci siano che si sia fatto accesso con il proprio nome e cognome che quindi si evitino o codici alfanumerici o nomi di fantasia e ovviamente viene rilasciato a coloro che abbiano fruito almeno della metà della durata del ehm del del webinar eh brevissimamente vi vorrei ricordare il la nostra il nostro principale canale di informazione che è il focus web europa punto formez punto it dove qui trovata di cui trovate una eh schermata qui trovato tutta una selezione di iniziative di informazioni ma anche di eh bandi quindi vi invitiamo a eh come dire consultarla periodicamente proprio perché cerchiamo sempre di veicolare di aggiornarvi su tutte le informazioni e le iniziative e le notizie di maggiore rilievo a livello europeo vedete sulla destra che c'è anche evidenziato in rosso un box con una banca dati una banca dati già è implementata con i programmi comunitari ventuno ventisette di cui appunto eh farà una panoramica Claudia eh molto breve e abbiamo anche vi segnaliamo anche i nostri account YouTube e eh Twitter e vi invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter vedete che c'è il link nel box sulla destra a qualora vogliate restare informati sulle nostre iniziative ma anche su altre iniziative organizzate a livello europeo eh di interesse per cittadini e amministrazioni pubbliche. In ultimo eh vi invitiamo anche laddove voleste darci un vostro feedback a ehm dare una valutazione sulle attività che noi eroghiamo in un'ottica appunto di eh costante eh miglioramento delle nostre attività. Qui ci sono i nostri contatti, i nostri eh appunto tutte le nostre informazioni per contattarci, abbiamo attivo anche uno sportello eh online che in tempo di covid abbiamo il nostro sportello informativo, lo abbiamo reso online e quindi eh previo invio di una mail potete richiederci un appuntamento e vi incontriamo e cerchiamo di rispondere ai quesiti che eh doveste avere. Eh prima di passare la parola a Claudia e quindi di entrare nel merito eh dell'appuntamento dell'incontro di oggi permettetemi di ringraziare tutti i partner che sono eh tutti 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 gli altri Europe Direct che sono partner di questa eh iniziativa. Vi ricordo che lezioni di Europa è un format eh divulgativo, informativo, ideato dalla dall'Università di Siena e che dall'anno scorso eh viene eh diciamo realizzato, implementato in partenariato fra eh più Europe Direct. Quindi ringraziamo Siena appunto per averci coinvolto in questo bellissimo eh ciclo di di appuntamenti informativi ma ringraziamo anche gli altri partner che sono il consorzio ehm lo Europe Direct Trapani Sicilia operativo presso il consorzio universitario della provincia di Trapani, l'Università eh Roma Tre, lo Europe Direct dell'Università ehm Roma Tre. Vi invitiamo quindi a contattare gli altri Europe Direct eh partner dell'iniziativa a livello territoriale per avere ulteriori eh informazioni. A questo punto inviterei Claudia a se riesco a interrompere la condivisione. Ok. Inviterei Claudia Salvi. Ok. Claudia ti lascio la parola per questo tuo eh primo ehm per i primi prima questa per questa panoramica intruttiva sul tema di oggi. A te la parola. Grazie e buongiorno a tutti. Mi mh volevo solo sapere se eh riuscite a vedere le slide. Sì si vedono. Perfetto. No perché non riuscivo a mettere la schermo intero ma ormai ci siamo riusciti. Allora buongiorno a tutti così come ha detto eh diciamo Raffaella nella parte iniziale oggi parliamo delle fonti di informazione. Nello specifico parleremo molto brevemente di quelle che sono le priorità della Commissione Europea per il periodo eh attuale di programmazione. In particolare ci soffermeremo sul periodo duemila e diciannove duemila e ventiquattro. Parleremo della distensione tra i diversi finanziamenti. Cioè quando si usano i fondi diretti i cosiddetti programmi comunitari o tematici e quando invece i fondi indiretti i cosiddetti fondi strutturali. Eh poi parleremo un po' di come si utilizzano i fondi e i fondi e dove possiamo trovare le informazioni utili su tutti questi finanziamenti. Eh vi rinvio anche un po' alle lezioni d'Europa dello scorso anno dove abbiamo parlato in maniera più dettagliata di quelle che erano le priorità della Commissione Europea. Ora diciamo quello che faccio stamattina è soltanto un veloce dichiamo rinviandovi ehm eh diciamo al ciclo di lezioni dello scorso anno dove invece ci ero ci eravamo soffermati in maniera molto più capillare ad illustrare le priorità. Eh casomai chiedo la la cortesia alla collega Raffaella Scordino di mettere nella chat il link al ciclo delle lezioni eh dello scorso anno che come sempre sono tutte videoregistrate e sono tutte anche eh comprensive di slide quando quando sono chiaramente state presentate. Per quanto riguarda gli orientamenti che sono stati pubblicati al luglio duemila e diciannove da parte della Commissione Europea. I principali capisaldi sono stati quelli di creare un collegio composto in parti uguali da uomini e donne. Eh chiaramente un punto di forza è il Green Deal europeo così come eh in occasione diciamo eh del diciamo di questi orientamenti politici è stato annunciato l'avvio di questa conferenza sul futuro dell'Europa che si dovrebbe concludere entro il duemila e vettiquattro ma che sappiamo i primi lavori si sono già conclusi e siamo già in un momento di restituzione di risultati ai cittadini. In più un altro obiettivo era quello di creare diecimila guardie di frontiera e anche di guardie costiere europee così come un altro eh principio importante era quello di garantire un salario minimo equo per ogni lavoratore e come sapete questo è un argomento sul quale in questi giorni si sta parlando moltissimo e in più il più grande obiettivo è quello di far diventare l'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero eh questo in particolare entro il duemila e cinquanta. Quindi diciamo quelli che sono gli obiettivi principali nel eh in questo periodo sono ripeto ancora una volta il Green Deal europeo un'Europa che deve essere sempre più digitale diciamo il Green Deal europeo e l'Europa digitale sono considerate una sorta di super priorità all'interno del dei vari obiettivi della Commissione europea economia al servizio delle persone questo per creare un ambiente che deve essere sempre più attraente per gli investimenti e anche per una crescita economica che possa anche contribuire offrire alla popolazione dei lavori di qualità in particolare per i giovani e per le piccole e medie imprese ancora un altro principio importante è quello di eh rendere l'Europa sempre più forte eh nei confronti dei paesi terzi quindi di far sentire sempre più la propria voce nel mondo cercando di promuovere quanto più possibile multilateralismo e anche un ordine mondiale basato su regole ben precise inoltre un altro obiettivo è anche quello di promuovere quanto più possibile lo stile di vita europeo e quindi ehm che in un certo senso comprende anche la tutela dello Stato di diritto questo per difendere la giustizia e anche quelli che sono i valori fondamentali dell'Unione europea così come uno slancio per la democrazia europea questo per fare in modo che i cittadini possano sempre partecipare più attivamente alla vita politica eh dell'Unione europea come vi dicevo eh due sono eh le super priorità all'interno di queste sei priorità della Commissione europea e in particolare il Green Deal europeo e l'Unione Europea pronta per l'era digitale proprio perché in un certo senso questi due argomenti vanno un po' eh a braccetto perché eh noi possiamo contribuire al Green Deal europeo anche eh favorendo maggiori investimenti in digitalizzazione. Eh per quanto riguarda il Green Deal europeo cerchiamo di ricordare quelli che sono stati un po' quelli che sono gli elementi guida innanzitutto eh l'Unione europea si prefigge quello di creare una legge europea sul clima appunto per raggiungere questa neutralità climatica entro il duemila e cinquanta. In più la Commissione europea ha dato anche un grosso contributo all'organizzazione della conferenza ONU, la cosiddetta COP26 di Glasgow che tra l'altro ha subito il ritardo di un anno a causa della eh pandemia. Ricordiamo la conferenza è stata organizzata dal Regno Unito in collaborazione eh con l'Italia. In più ancora un altro obiettivo è la decarbonizzazione dell'energia, la che la eh il lancio ad un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, la strategia dell'Unione europea per la biodiversità che si dovrebbe appunto realizzare entro il duemila e trenta, il piano di investimenti del Green Deal europeo così come una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile, così come anche eh la strategia, la realizzazione di una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente. In più nel duemila e ventuno eh è stato designato l'anno europeo delle ferrovie per cercare di promuovere e sostenere quanto più possibile il trasporto ferroviario in quanto eh i treni rappresentano solo lo zero virgola cinque per cento delle emissioni di gas serra che vengono eh prodotte dai trasporti nell'Unione europea. Per quanto riguarda invece gli obiettivi della transizione digitale diciamo eh quelli prioritari sono la strategia europea in materia di dati, un approccio europeo comune verso quella che tutte le tematiche relative all'intelligenza artificiali. Ci sarà una legge per regolamentare i i servizi digitali europeo e europei così come ci sarà un rafforzamento della cibersicurezza, un digitale che dovrà sempre eh più essere al servizio dei consumatori ma anche delle piccole e medie imprese così come verrà elaborata una nuova strategia industriale verso l'Europa e anche verso uno spazio europeo della ricerca e non ultimo eh grande eh importanza sarà anche dato al tema della finanza digitale. Ora ehm quello che è successo mentre veniva elaborato questa ehm diciamo venivano elaborati questi obiettivi della Commissione europea è che abbiamo avuto un'emergenza, un'emergenza che ha accolto l'Europa completamente impreparati e che è stata l'emergenza sanitaria dovuta al covid. Innanzitutto questa emergenza ha fatto emergere che uno degli investimenti importanti da tenere presente è proprio sono gli investimenti in materia sanitaria. Il covid ha dimostrato eh in maniera molto chiara che soltanto ehm che di fronte alle grandi minacce sanitarie soltanto una risposta comune può garantire dei risultati eh utili e che in qualche modo eh possano eh aiutare l'Europa a riprendersi nel momento in cui queste eh emergenze si verificano. E quindi poi il ventisette maggio eh in seguito all'emergenza eh covid l'Unione Europea ha proposto un bilancio rafforzato eh per cercare un po' di dare una risposta a quelle che sono state le emergenze eh sul piano economico e sociale che sono state create dalla pandemia eh pandemia. Eh le proposte si sono incentrate essenzialmente sul Next Generation EU che è stato uno strumento di emergenza di settecentocinquanta miliardi che ha cercato di potenziare temporaneamente la capacità finanziaria del bilancio dell'Unione Europea grazie a fondi che sono stati raccolti sui mercati finanziari e questi fondi raccolti sono stati poi conviogliati attraverso i programmi dell'Unione Europea hanno cercato di sostenere quelle che sono le misure urgenti indispensabili per eh diciamo in qualche modo poter dare una risposta alla pandemia. In più poi chiaramente eh si è lavorato sul quadro finanziario pluriannale rinforzato per il 2021-2027 che eh ha cercato di orientare rapidamente gli investimenti là dove si sono resi più necessari e quindi poi cercare di sforzare tanto più possibile il mercato unico, intensificare la cooperazione in alcuni settori appunto quale eh la salute e la gestione eh delle crisi. Quindi eh diciamo a inizio di programmazione è stato adottato un quadro finanziario pluriannale che è appunto uno strumento di pianificazione che l'Unione Europea utilizza eh delle proprie risorse e che vengono destinate alle politiche europee per un periodo di circa eh di sette anni. Eh chiaramente poi queste risorse che vengono stanziate nell'ambito del quadro finanziario pluriannale vengono organizzati per fondi con una missione specifica come per esempio quello del Fondo Sociale Europeo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ma anche di altri fondi come per esempio quelli dei programmi eh tematici. Poi dopo cercheremo di capire eh quali sono questi eh programmi tematici e qual è la differenza tra i due. A che cosa serviranno questi fondi? Eh diciamo a vari obiettivi, a ridurre i divari territoriali, a migliorare i sistemi di occupazione e così come i sistemi sanitari, a riuscire a dare una capacità di risposta più efficace alle crisi che eh man mano l'Unione Europea deve eh affrontare come sempre gran parte di questi fondi saranno utilizzati per la politica agricola comune che rimane comunque una delle principali ehm voci di spesa all'interno dell'Unione Europea ma questi soldi serviranno anche per favorire la transizione ambientale per eh gestire in maniera più appropriata i flussi migratori ma anche per diciamo favorire una politica esterna proprio per eh rafforzare maggiormente la cooperazione con i paesi del vicinato ma anche con i paesi eh che nella preadesione così come eh molti soldi verranno destinati per rafforzare eh il sistema di difesa europeo che questo è un tema che chiaramente dopo le vicende dell'Ucraina diventa sempre più importante così come eh alcuni soldi verranno destinati per eh favorire le misure di contrasto alla criminalità e al terrorismo ma anche proprio in generale al funzionamento delle istituzioni europee. Ora i fondi del quadro finanziario pluriannale finanziano programmi di intervento che hanno dei precisi obiettivi di sviluppo. Quindi abbiamo da una parte quelli che vengono sono noti come fondi strutturali e in questo caso possiamo parlare anche di gestione concorrente. Questi possono riferirsi a più ambiti di intervento e spesso hanno anche una dimensione geografica e poi invece abbiamo i finanziamenti diretti che sono i cosiddetti programmi climatici cioè quei finanziamenti che vengono gestiti direttamente dalla Commissione Romea ma tra un altro tra un attimo lo vediamo più nel dettaglio. All'interno di questo gruppo dei finanziamenti diretti abbiamo poi anche gli strumenti finanziari che sono destinati per l'assistenza esterna cioè per favorire la cooperazione tra l'Unione Europea e i paesi che si trovano al di là dei confini dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la gestione diretta, quella che noi conosciamo proprio come i programmi comunitari tematici, questi come e perché si caratterizzano? Innanzitutto perché le risorse sono rigate e gestite direttamente e centralmente dalla Commissione Europea tramite le proprie direzioni generali o attraverso delle agenzie esecutive che comunque fanno capo alle direzioni generali. Quindi si dice che questi fondi vengono gestiti direttamente perché il trasferimento dei fondi avviene senza intermediari quindi direttamente dalla Commissione Europea ai beneficiari del progetto cioè ai partner che si uniscono per accedere al finanziamento e si dice anche che questi fondi sono gestiti centralmente perché le procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit vengono gestite direttamente dalla Commissione Europea o come vi dicevo prima dall'organismo che le rappresenta che in questo caso potrebbero essere le agenzie esecutive dell'Unione Europea. Per quanto riguarda invece i fondi strutturali queste sono le risorse che sono rappresentate essenzialmente dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Coesione. Nel caso dei fondi strutturali diciamo che questi non sono assegnati direttamente a progetti che vengono selezionati dalle direzioni generali della Commissione Europea ma si parla di gestione concorrente perché in realtà questi vengono poi gestiti a livello nazionale o attraverso i programmi operativi nazionali e quindi dai ministeri oppure dalle regioni e avremo i programmi operativi regionali. Però chiaramente quando vengono gestiti dalle regioni o a livello nazionale tutte le procedure di selezione, di pubblicazione di bandi, di audit vengono poi gestite a livello nazionale. Per quanto riguarda i fondi strutturali vorrei soffermarmi un attimo su quello che è l'articolo 174 del Trattato dell'Unione Europea che dice per promuovere un sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della questione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira il divario tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Quindi questo è il principio base dei fondi strutturali, quello di ridurre il divario territoriale. Che cosa significa? Che i fondi strutturali come obiettivo hanno quello di portare tutte le regioni europee ad uno stesso livello di sviluppo. In realtà gli obiettivi della politica di coesione possono essere distinti in tre gruppi. Abbiamo gli obiettivi di politica di coesione economica che appunto mirano a diminuire il ritardo tra le diverse aree delle regioni, tra quelle meno sviluppate e più sviluppate per portarle ad uno stesso livello di sviluppo. Poi invece abbiamo degli obiettivi di coesione sociale. Questi hanno come obiettivo quello di assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso ai diritti fondamentali in materia di lavoro, in materia sociale ed anche economica. E poi invece abbiamo gli obiettivi di coesione territoriale che mirano a favorire uno sviluppo equilibrato dei territori europei e anche cercando di favorire l'integrazione delle zone in cui ci sono per esempio alcune problematiche comuni e quindi per esempio si parla di isole oppure le zone di confine o aree interne. E diciamo che questo obiettivo viene realizzato essenzialmente tramite quei finanziamenti che sono noti come programmi interreg. Ecco, per quanto riguarda l'interreg volevo tra l'altro soffermarmi perché molte volte i programmi interreg vengono confusi con i programmi tematici. In realtà questo è sbagliato. L'interreg si avvale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed è uno strumento finanziario che rientra nei fondi strutturali. Ora, per quanto riguarda diciamo le cinque grandi politiche della coesione, lo ripeto, ci sono sempre un'Europa più intelligente, un'Europa più verde, un'Europa che dovrà essere sempre più connessa, quindi dotata di reti di trasporto e digitali sempre più strategiche, un'Europa che deve diventare sempre più sociale e anche un'Europa che però deve essere vicina ai cittadini. Quindi cercando da una parte di offrire dei servizi ai cittadini ma anche di avere un feedback da questi in modo da poter fare in modo che i cittadini sentano l'Europa come una propria conquista. Ora, è vero che noi abbiamo degli obiettivi diciamo della politica di coesione che sono Europa più intelligente, più connessa, però è anche vero che oltre ai fondi strutturali anche gli strumenti tematici possono concorrere a raggiungere gli obiettivi diciamo della politica di coesione. Vi faccio un esempio. Per quanto riguarda Europa più intelligente dove appunto ci sono alcuni obiettivi che sono quelli di favorire la ricerca e l'innovazione, incrementare per quanto più possibile la digitalizzazione, in particolare per aiutare le piccole e medie imprese a beneficiare diciamo della digitalizzazione per lo sviluppo e anche per aumentarne la competitività. Come vedete esistono poi anche degli strumenti tematici che in qualche modo vanno ad aiutare al raggiungimento di questi obiettivi. Per esempio per tutto quello che è la partita della ricerca e innovazione i programmi di riferimento sono il programma Orizzonte Europea ma anche il fondo Invest EU. Per quanto riguarda il settore della digitalizzazione ci sono vari strumenti tematici che concorrono al raggiungimento di questi obiettivi e parlo del meccanismo per collegare l'Europa in particolare per la parte che si occupa di digitalizzazione e della creazione di reti. Europa Digitale che è un nuovo programma lanciato dalla Commissione Europea che ha come obiettivo quello di favorire la digitalizzazione dell'Europa ma ancora noi possiamo trovare il digitale in programmi specifici come il programma per la salute EU for Health in Europa Creativa e in Erasmus Plus perché come vi ho detto anche precedentemente in altre occasioni i programmi tematici non vanno mai visti in maniera miope perché la digitalizzazione sì esiste un programma interamente dedicato al digitale che è Europa Digitale ma anche è vero che il tema della digitalizzazione lo possiamo trovare all'interno di altri strumenti come per esempio Orizzonte Europa che favorisce la digitalizzazione in vari settori che può essere quello della salute, quello delle politiche sociali e così via. Stessa cosa per quanto riguarda un'Europa più verde dove gli obiettivi sono quelli di creare efficienze energetiche, energie rinnovabili, smart grid, anche qui abbiamo dei programmi tematici di riferimento che sono il programma Life, il programma Orizzonti Europa, il programma per il mercato unico, il fondo InvestEU e il meccanismo per collegare l'Europa. Per quanto riguarda un'Europa più connessa e gli strumenti sono quelli che vi abbiamo elencato, vi abbiamo, vi ho descritto prima cioè Orizzonte Europa, meccanismo per collegare l'Europa ma anche Europa Digitale così come per l'Europa più sociale abbiamo vari programmi che sono tutti i programmi che fanno parte del diciamo del gruppo sociale che sono il programma Erasmus, il corpo europeo di solidarietà, sempre il fondo InvestEU che ha una componente che si occupa di Europa sociale ma anche il programma diritti, valori e giustizia e poi come sempre queste linee le possiamo trovare anche nel programma Orizzonti Europa dove ha alcune linee che per lo specifico si occupano di studi e ricerche nel settore sociale. Per quanto riguarda un'Europa più vicino ai cittadini ci sono dei programmi di riferimento in particolare abbiamo Europa Creativa e Life e Orizzonte Europa. Ora per quanto riguarda i fondi strutturali invece, un minuto chiedo scusa ma ecco sono andata avanti, come vedete abbiamo il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il cosiddetto FEASRA, ma esistono ancora due fondi che sono il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e anche il Fondo di Coesione Europeo. L'Italia però non è interessata dal Fondo di Coesione Europeo. I principali fondi strutturali, i due principali fondi strutturali per quanto riguarda la coesione sociale è il Fondo Sociale Europeo che finanza interventi nei settori di distruzione e formazione, crescita e competenze, inclusione sociale e lotta alle discriminazioni. Invece per quanto riguarda la coesione economica abbiamo il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che può finanziare interventi in innovazione scientifica e tecnologica, investimenti in ambienti, energie rinnovabili e anche investimenti urbani e territoriali così come può finanziare interventi nel settore della valorizzazione ambientale e culturale. Per quanto riguarda la coesione territoriale, vi ricordiamo abbiamo questo programma Interreg che ha tre strand che si occupano di cooperazione trasfrontaliera, quindi permettono alle regioni che hanno una frontiera in comune di collaborare insieme per uno sviluppo armonioso dei territori da ambo le parti. La cooperazione trasnazionale permette a più regioni confinanti di lavorare insieme e poi abbiamo un terzo strand che è quello della cooperazione interregionale che permette alle regioni europee di collaborare insieme senza il vincolo della continuità territoriale e sono progetti che essenzialmente si basano sullo scambio di buone prassi, specialmente nello scambio di buone prassi di ciò che è stato realizzato e che ha prodotto buoni risultati nell'ambito degli altri due strand. In più per quanto riguarda Interreg abbiamo delle novità con questo periodo di programmazione, è stato introdotto un meccanismo trasfrontaliero europeo, questo meccanismo consente alle regioni di confine e anche agli stati che confinano di armonizzare i rispettivi ordinamenti giuridici. E poi è stato introdotto un nuovo strumento che si chiama Investimenti Innovativi Interregionali, che tra l'altro sul nostro sito Europa abbiamo pubblicato una giornata informativa dedicata a questi investimenti innovativi interregionali che dovrebbe tenersi il 23 giugno, dove si parla di questa nuova azione, che è un'azione pilota, che è stata introdotta inizialmente nel periodo 2014-2020 e che più che altro consiste nel fatto che le regioni che dispongono di risorse equivalenti e di specializzazione interilligente ricevono maggior sostegno per la costituzione di alcuni cluster paneuropei in alcuni settori prioritari, che sono i settori di big data, dell'economia circolare e delle tecnologie produttive avanzate, così come per la cibersicurezza. Ora, per quanto riguarda i fondi strutturali, come sapete, questo sicuramente vi è noto, le regioni sono state divise in tre gruppi. Abbiamo le regioni meno sviluppate, che hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. Le regioni in transizione, che hanno un PIL pro capite compreso tra il 75 e il 100% della media comunitaria. Poi abbiamo le regioni più sviluppate, che hanno un PIL pro capite superiore al 100% della media comunitaria. Ora, cerchiamo di capire qual è la differenza tra i due gruppi di finanziamento. Allora, abbiamo detto che nella gestione diretta abbiamo un rapporto contrattuale direttamente tra la Commissione Europea e i beneficiari del progetto. Quindi, quali sono gli attori principali? Le varie direzioni generali della Commissione Europea, che gestiscono i singoli strumenti finanziari, le agenzie delegate e poi chiaramente i beneficiari dei progetti. Qual è l'unico obiettivo della gestione diretta? Quello di far cooperare le regioni europee tra di loro. Invece, per quanto riguarda la gestione indiretta, noi abbiamo il trasferimento delle risorse che partono sempre dalla Commissione Europea, ma poi vengono trasferite agli Stati membri. Quindi siamo sempre anche in presenza di un cofinanziamento governativo e l'assegnazione delle risorse viene fatta sulla base di specifici bandi che a questo punto vengono pubblicati a livello nazionale. Chiaramente noi qui abbiamo più attori, perché abbiamo la Commissione Europea, il Governo Centrale, le regioni, gli enti locali e così via. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo non è più quello di far collaborare le regioni tra di loro, ma invece quello di ridurre il divario tra le varie regioni europee. Bisogna tenere questo presente nel momento in cui noi parliamo di differenza tra i due fondi. C'è un'altra caratteristica che nella gestione diretta per poter presentare una proposta di progetto noi dobbiamo creare un partenariato trasnazionale. Significa che l'Italia non può presentare un progetto da sola, ma deve unirsi a partner di altri paesi per poter accedere al finanziamento. Solitamente il numero dei partner viene indicato nel bando, non sono mai meno di due e chiaramente noi sappiamo anche che la Commissione Europea favorisce partenariati ampi. Per quanto riguarda i finanziamenti diretti, questi sono degli strumenti attraverso i quali l'Unione Europea finanzia l'esecuzione di una serie di azioni per realizzare gli obiettivi che si è prefissata nelle sue diverse materie di competenza. Un'altra differenza rispetto ai fondi strutturali, mentre i fondi strutturali possono finanziare strutture e lo dice la parola stessa, quindi noi possiamo per esempio ristrutturare dei beni che sono presenti sul nostro territorio, questo non è mai possibile con i fondi diretti, ma i fondi diretti prevedono la realizzazione di progetti che devono essere essenzialmente innovativi e devono essere sempre elaborati secondo questo principio del partenariato, cioè devono essere realizzati insieme a partner di altri paesi europei. Poi lo vedremo meglio tra un pochino quando ne parliamo più nello specifico. Ora, qual è il leader dei programmi comunitari? La Commissione europea pubblica la decisione di adozione del programma comunitario a inizio programmazione. Poi per poter partecipare al bando dobbiamo attendere la pubblicazione del bando che in passato avveniva sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C, ma che invece ora gradualmente è stato trasferito sul sito web delle direzioni generali, ma in particolare esisteva un portale che si chiama il portale per il finanziamento e per le gare di appalto, che è diventato un momento di accesso unico per poter consultare tutti i bandi che vengono pubblicati nell'ambito degli diversi strumenti finanziari dell'Unione europea. Ora, la decisione di adozione dei programmi comunitari viene pubblicata una sola volta a inizio programmazione, in genere sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la serie L, quella dedicata alla legislazione. Poi, come vi dicevo, bisogna aspettare la pubblicazione dei bandi sul portale. La gestione, come vi dicevo, spetta poi alla Commissione europea tramite i propri apparati. Però esistono alcuni programmi, come ad esempio il programma LIFE, che vengono attuati anche attraverso l'ausilio di alcune agenzie nazionali che vengono costituiti dagli stati membri su richiesta della Commissione europea. Per esempio, il programma LIFE viene gestito a livello nazionale dal Ministero degli Ambienti, che fa anche una sorta di prima selezione dei progetti e poi, diciamo, sulla rossa di questa prima selezione vengono inviati alla Commissione europea che poi, diciamo, decide in ultima istanza quali sono i progetti che vengono ammessi a finanziamento. Chiaramente il bando è l'elemento più importante, diciamo, di questi strumenti finanziari. Che cosa troviamo nel bando? L'indicazione dell'oggetto degli obiettivi. Quali sono? Vengono indicati chi sono i beneficiari e quali sono i requisiti minimi per poter partecipare a quel bando, qual è la dotazione finanziaria assegnata a quel invito a presentare proposte, quali sono i criteri che vengono utilizzati dalla Commissione europea per la selezione delle proposte, così come viene anche indicata qual è la procedura ai termini della presentazione delle proposte e chiaramente vi viene fornito un sito web dove potete trovare il formulario e tutti i documenti utili per poter partecipare. Qui ho un po' riassunto quali sono i documenti principali di cui avete bisogno per poter partecipare a un bando, ma questo poi lo approfondirete ulteriormente con Raffaella la prossima settimana. Quindi sulla nostra scrivania dobbiamo avere la decisione di approvazione del programma per capire di che cosa parla il programma, poi ci dobbiamo procurare il testo del bando, la guida per i candidati che ci dice passo per passo come dobbiamo compilare il formulario, formulario che ormai sono sempre online, poi ci viene anche indicato eventuale programma di lavoro ed eventuale ulteriore documentazione che potremmo dover produrre. Chiaramente nel momento in cui noi presentiamo una proposta importante effettuare un'analisi delle misure ammissibili, cercare di di sottolineare quanto è più possibile qual è la dimensione europea del nostro progetto, cercare di rispettare i criteri formali per la presentazione delle proposte perché le nostre proposte vengono su prima, in prima battuta valutate sulla base del rispetto dei criteri formali, poi come sempre ricordiamoci di preparare una scheda reassuntiva in lingua inglese perché ne avremo bisogno anche per cercare i partner e ricordatevi sempre di rispettare gli orari ma anche le scadenze indicate nel bando. È importante l'orario perché noi abbiamo lo stesso orario di Bruxelles ma molti paesi hanno orari differenti. Ora nel momento in cui noi sentiamo una proposta di progetto ci dobbiamo fare alcune domande. La nostra proposta di progetto è trasnazionale, cioè effettivamente sta incoraggiando la mobilità geografica, sta coinvolgendo più paesi membri. Un'altra cosa che dobbiamo dimostrare è in che modo il nostro progetto è innovativo, cioè noi chiediamo questo finanziamento perché stiamo presentando un'idea nuova, una nuova proposta, così come è importante anche indicare qual è il valore aggiunto europeo, cioè noi stiamo chiedendo un finanziamento alla Commissione europea perché col finanziamento a livello nazionale non potremmo andare a raggiungere un obiettivo che può essere un obiettivo europeo e cioè che non ha valore soltanto per la nostra realtà ma può essere un valore anche per altri paesi dell'Unione europea. Un altro principio che è importante è della sussidiarietà, cioè noi facciamo intervenire l'Unione europea con i propri fondi perché con le risorse locali non riusciremo a realizzare questo progetto che invece ha una finalità europea e cioè quella di proporre delle soluzioni che possono essere utili per tutta eh per altri paesi. Un altro fattore molto importante è quella della sostenibilità. Dobbiamo indicare nella nostra proposta di progetto che il flusso dei benefici che derivano questo da questo progetto non muoiono con la scadenza del progetto ma noi dobbiamo dimostrare in che modo vogliamo far sopravvivere il progetto alla fine del finanziamento. E poi chiaramente quello che è importante è anche dare il nostro assenso per la pubblicazione dei dati sul progetto per fare in modo che il progetto possa essere conosciuto a livello di territori. E qui è legato un altro un altro momento molto importante che è la fase di comunicazione. Per tutte le proposte di progetto bisogna ehm prevedere eh la la redazione di un piano di comunicazione perché è importante sì realizzare dei buoni progetti ma se poi questi buoni progetti non vengono conosciuti risultano di essere vani e quindi ehm diciamo in ogni proposta di progetto bisogna ehm eh preparare un piano di comunicazione in cui nel dettaglio eh si possa eh illustrare come intendiamo far conoscere il progetto alla popolazione. Forse io sono andata. Claudia perdonami sì no volevo non volevo interromperti ma solo segnalarti che il tempo sta andando avanti quindi. Sì vado allora velocemente su quanti altri minuti ho Raffaella? Eh avresti sforato quindi cerca di fare una carrellata veloce così diamo spazio agli altri relatori. Scusa per l'interruzione. No 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 è stato bene perché avevo perso condizione del tempo. Allora eh allora di questo della differenza tra sovvenzione, prestiti, garanzie, contributi e premi che sono i tipici strumenti ne parlerà Raffaella la prossima volta perché so che riprenderà questo tema. Io volevo andare solo molto velocemente a farvi vedere quelli che sono quelle che per noi sono le principali fonti di informazioni. Innanzitutto la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea nella sua edizione C comunicazione ed L legislazione dove noi possiamo trovare sia le decisioni di adozione dei programmi che i relativi bandi. Eh e questo è un esempio di regolamento di adozione di un programma così come quello successivo è un esempio della gazzetta C con un invito a presentare proposte. Poi un'altra banca dati molto importante è la banca dati TED che contiene ehm eh tutti gli appalti pubblici che vengono pubblicati in Europa perché al di sopra della soglia di duecentocinquantamila euro tutti i paesi sono obbligati a pubblicare gli appalti pubblici in questa banca dati. Eh un altro servizio molto importante è quello offerto dal Press Corner. Questo è il servizio stampa della Commissione Europea dove ogni giorno noi troviamo quelli che sono tutte le novità della Commissione Europea in tema di principali politiche e ehm eh e adozione di eh strategie strategie da parte dell'Unione Europea. Questo il eh EU Funding and Tenders Portal dove noi possiamo consultare sia le gare di appalto che gli inviti a presentare proposte e possiamo sia consultare quelli in corso quelli chiusi oppure in apertura così come possiamo ehm consultare lo strumento finanziario e il bando relativo a quello strumento finanziario. Ma di questo non mi preoccupo perché poi lo rivedrete con molta più calma alla prossima puntata con ehm. Raffaella. Eh poi vi segnalo il sito relativo alle alle direzioni generali dell'Unione Europea e alle relative agenzie esecutive così come vi eh volevo indicare alcuni ehm eh siti importanti che sono quello dei finanziamenti appalti della Commissione Europea dove potete trovare degli approfondimenti su come si fa una domanda, su come si gestisce un progetto e quant'altro come vedete anche in lingua italiana. Così come è importante la sezione imprese e finanziamenti del sito della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Queste slide chiaramente vi verranno messi a disposizione sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi e quindi vi lasceremo anche tutti i link. Così come vi ricordo che esiste il portale La Tua Europa eh dove anche qui potete trovare tutte le informazioni relative ai finanziamenti. Come vedete esiste un box fondi e finanziamenti. Eh nella parte come ottenere finanziamenti potete poi accedere a programmi di finanziamento dell'Unione Europea e anche qui avete la divisione in finanziamenti diretti e indiretti. E poi come eh vi dicevo esiste la nostra banca dati di programmi comunitari dove potete consultare tutti i programmi tematici dell'Unione Europea e la nostra banca dati bandi dove trovate tutti i bandi relativi a tutti gli strumenti finanziari della Commissione Europea. Vi ricordo poi noi che anche noi gestiamo un focus web dedicato all'innovazione digitale dove trovate sia eh la banca dati specifica per i finanziamenti nel settore dell'innovazione digitale eh che dei bandi. Vi ricordo anche una cosa perché questo è un po' una chicca eh i nostri colleghi dello Europe Direct delle media Romagna stanno organizzando una giornata informativa sul programma europeo cittadini uguaglianza diritti e valore che si tiene il mi pare il ventitré alle ore quattordici eh e sarà probabilmente per quest'anno l'unica giornata informativa che verrà organizzata eh da questo programma quindi qui trovate le informazioni se qualora vi voleste eh iscrivere. Eh grazie per l'attenzione scusate siamo siamo andati un po' veloci ma oggi ci sono tantissime cose di cui parlare. Grazie Raffaella. Grazie molte Claudia. Scusa ai relatori per il ritardo. Tranquilla che ci abbiamo tempo e cerchiamo di avere anche un po' di spazio per eventuali domande a termine degli altri interventi. Eh grazie Claudia per questa panoramica e per questi chiarimenti in merito a diversi finanziamenti. L'Unione Europea eh è opportunità di finanziamento l'abbiamo visto ce ne sono tantissime ma è importantissimo anche essere informati e poter monitorare in un'ottica di monitoraggio civico no tutti i cittadini europei hanno il diritto e il dovere di verificare pure come vengono utilizzati questi eh finanziamenti. A tal fine quindi dare la parola subito a Matteo Salvai che è della unità comunicazione della DG Reggio che è la DG competente appunto per la politica di sviluppo regionale e che ci presenterà appunto il portale in foreggio dove eh appunto potrete essere e trovare tutte le informazioni del caso. Quindi Matteo nel rinnovarti ringraziamento per la tua partecipazione per il contributo che ci darai eh ti cedo subito la parola e ti ringrazio ancora. Prego. Buongiorno a tutti. Grazie mille Raffaella e Claudia dell'invito e grazie mille di questa splendida panoramica che Claudia hai fatto che è utile anche per noi per rinfrescarci dove siamo e dove arriviamo e noi allora io sono qua con il mio collega che parlerà dopo Roberto Musmeci e siamo alla Commissione Europea parliamo da Bruxelles e siamo l'unità comunicazione della direzione regionale delle politiche regionali che si occupano direzione generale politica regionale che si occupano di parte di questi fondi specificamente di questi fondi che vengono chiamati sia gestione concorrente che gestione indiretta. Noi vi faremo brevemente vedere da una parte io dove trovare informazioni su questa politica e dove trovare informazioni anche su eventuali bandi che mi sembra uno dei temi di vostro interesse e poi Roberto farà un illustrerà un nuovo portale che è appena stato creato un portale un database che con tutti i progetti che vengono stati finanziati dalla politica e così a partire dal 2014 con un esploramento nuovo e molto interessante. Adesso condivido lo schermo e dovreste vedere qualcosa. Penso si veda no? Si confermiamo. Allora questo è quello che viene chiamato inforegio cioè il la parte dedicata alla politica regionale del sito della Commissione Europea. Come ci si arriva lì? Direi non provate ad arrivarci dal sito generale della Commissione Europea ma utilizzate quella che è la home page comune ormai di tutto il mondo c'è Google e googlando politica regionale fondi europei eccetera o inforeggio trovate questo sito. Questo sito è disponibile in tutte le lingue, 24 sono le lingue dell'Unione Europea, lo vediamo in italiano, ci sono alcune parti che poi saranno in inglese. Siamo in una fase, come ha spiegato prima Claudia, siamo in una fase di transizione perché c'è da una parte la programmazione 2014-2020 che è ancora in corso perché terminerà alla fine del 2023, c'è una regola per cui tutte le spese sono elegibili fino alla fine del 2023 e poi è iniziata la nuova programmazione quella 2021-2027. Faccio vedere una cosa sulla programmazione in corso 2014-2020. Se vuoi alla fondo di questa pagina c'è il tasso di assorbimento dei fondi. Questo è molto interessante perché è un tema assai ricorrente sui media e soprattutto sui media italiani. Questo è quanto l'Europa ha pagato, ha rimborsato spese che sono già state sostenute. Allora vi spiego solo questo principio perché non è vero che come intanto si sente dire l'Italia dovrà ridare dei soldi a Bruxelles. Non è vero perché in realtà sono soldi che vengono anticipati o dal paese o dalla regione e poi vengono rimborsati dall'Unione Europea. Su questa programmazione 2014-2020 che appunto si chiuderà poi il 31 dicembre 2023, l'Italia ha un tasso di assorbimento di questi fondi che è più o meno del 58%, è leggermente un po' più basso della media europea ma non è diciamo uno dei più bassi in Europa. Solitamente la spesa cresce esponenzialmente negli ultimi anni, quindi il 2022-2023 e poi nel passato ci insegna che tutti questi soldi poi vengono assorbiti alla fine. Questo perché per attivare diciamo le procedure, i bandi, i progetti ci vuole un po' di tempo all'inizio e poi c'è la spesa cresce molto alla fine. Se andiamo al livello di programmazione 2021-2023 ci sono state una serie di cambiamenti e vi faccio solo vedere a che punto siamo per capire e poi andiamo sulle cose più concrete. Il documento iniziale si chiama partnership agreement o accordo di partenariato. Una volta che c'è questo accordo di partenariato che viene negoziato e discusso tra la Commissione Europea e lo Stato membro e quindi lo Stato membro presenta un documento di una certa consistenza su come vuole investire i fondi per questa programmazione, poi iniziano i programmi, quelli che diceva prima Claudia, iniziano i bandi e si iniziano a spendere i soldi. Al momento sono otto gli accordi di partenariato, lo vedete qui, che sono stati già adottati e ce ne sono altri, tra cui l'Italia, che dovrebbero essere adottati diciamo da qui alla fine di luglio. Quindi il processo vero di questa nuova programmazione inizia quando ci sarà l'adozione di questo accordo di partenariato e poi via via l'adozione dei programmi che sono, come spiegava prima Claudia, o programmi nazionali gestiti dai ministeri o programmi regionali. Se noi torniamo un attimino indietro, voglio farvi vedere i bilanci disponibili, così capiamo di che cosa trattiamo, questo è in inglese, per questa programmazione duemilaventuno e ventisette. Ecco qua. Ci sono queste liste di categorie, le tre categorie di regioni che menzionava prima Claudia, quindi sono le regioni più sviluppate, le regioni cosiddette intransizionali, cosiddette meno sviluppate. Come vedete l'Italia ha un caso abbastanza peculiare all'interno dell'Unione Europea, solo la Spagna ha una situazione similare dove ci sono tutte e tre le regioni rappresentate, le vedete qua e lo vedete qua nella barra accanto, quindi ci sono undici regioni cosiddette più sviluppate, sette meno sviluppate e tre sono in transizione, vedete la colorelazione diversa. La gran parte dei fondi viene giustamente allocata alle regioni che ne hanno più bisogno, quindi sono le regioni meno sviluppate. Se noi guardiamo quanti so, a quanto ammonta tutto questo, lo vedete in questa barra qua sotto e l'Italia è il secondo beneficiario a livello europeo, quindi c'è il primo la Polonia e l'Italia riceverà 30 miliardi per quanto riguarda le cosiddette regioni meno sviluppate, poi 1,5 miliardi alle tre regioni in transizione e 9,5 miliardi per le regioni più sviluppate, poi c'è un miliardo, un nuovo fondo si chiama Just Transition Fund, il fondo della transizione giusta che deve agevolare la riconversione economica di alcune aree del paese. E questa è l'allocazione che viene data per questa programmazione. Adesso, se torniamo un attimino nel sito e andiamo, clicchiamo su programmi, al momento i programmi 2021-2027 non sono ancora stati adottati, quindi guardiamo la programmazione passata, questa 2014-2020. Selezioniamo il paese, eccoci, facciamo una ricerca e qua c'è l'elenco di tutti i programmi, ROP sarebbero i programmi regionali e national program, programmi nazionali, che sono attualmente in vigore nella programmazione 2014-2020. Se per caso ne apriamo uno, prendiamo l'Emilia Romagna che è stata citata prima, la cosa interessante è che da questo sito avete i contatti di la cosiddetta autorità di gestione su chi gestisce il programma, con anche un nome specifico che credo sia della dirigente della regione dell'Emilia Romagna, con un riferimento email e la cosa più importante è l'indirizzo al sito inter, per cui se io clicco sul sito internet arrivo alla sezione del sito della regione Emilia Romagna dedicata al Fondo Europeo regionale, al Fondo Europeo di sviluppo regionale in questo caso. E la cosa che credo sia rilevante per voi ed è un punto su cui noi ci puntiamo particolarmente quando ci interfacciamo e parliamo con i colleghi che si occupano della comunicazione nelle regioni e nei ministeri, è di mettere bene in evidenza subito le opportunità. Quindi in questo caso, se volete andare a vedere quali sono i bandi attivi o quelli che arriveranno a breve, basta cliccare su bandi e averlo lì. Quindi, e questo processo che adesso io ho fatto sulla regione, per la regione Emilia Romagna, si può trovare, diciamo, si può, da qui è un buon punto d'entrata per andare, per vedere tutto quello che succede negli altri programmi. Appena i programmi della prossima programmazione saranno adottati, ci sarà, io quindi adesso clicco e non vedete niente, giustamente, quando i programmi della prossima programmazione saranno adottati, ci sarà un breve, una scheda breve di che cos'è il programma e si ripeterà questa. Ultima informazione, poi se volete, poi rimango qua per avere ancora domande, se volete, diciamo, avere qualche informazione in più su questo, quello che vi consiglio è andare a fondo della pagina, dove c'è il piedi di pagina, andate su contatti e qua ci sono i vari modi di contattare l'Europa, tra cui uno dei primi è ovviamente il Euro Direct che hanno organizzato questo bell'incontro e l'altra cosa che se per caso siete interessati specificatamente su informazioni riguardanti della politica regionale, potete iscriversi cliccando qui alla mailing list, mettete il vostro indirizzo e riceverete una volta ogni settimana, una volta due settimane, una serie di informazioni legate a quello che è legata alla politica regionale. Questo direi che in proprio in cinque minuti sono le informazioni principali legate a questo, lascerei magari la parola subito a Roberto, perché le due cose si complementano e poi dopo rimaniamo qui per rispondere alle vostre domande. Grazie mille. Eccoci, grazie mille Matteo, Raffaele e Claudia, effettivamente per me è un piacere essere qui, potervi presentare Coisio, aspetto di poter condividere lo schermo. Matteo dovrebbe interrompere la sua condivisione, perfetto. Eccoci, perfetto. Allora condivido lo schermo, il quale arriverà tra qualche secondo. Qualcuno mi può dire se si vede? Perfetto. Sì Roberto, perfetto. Perfetto, grazie mille. Appunto abbiamo fatto un escursus generale di tutto quello che è la politica di investimenti europei, abbiamo detto fondamentalmente quali sono le fonti di informazione per quelli che sono le opportunità che stanno per arrivare appunto di finanziare progetti a livello locale, però un aspetto molto importante è chiaramente avere accesso a quelli che sono i documenti e le informazioni su quelli che sono stati i progetti che sono stati finanziati nel passato. Fino a qualche anno fa questa cosa era abbastanza difficoltosa perché appunto come abbiamo detto la politica di coesione è una politica di gestione concorrente, indiretta. Questo significa appunto che la Commissione europea dà dei soldi alle autorità di gestione nei vari paesi e loro poi sono competenti nel scegliere i progetti e quindi chiaramente anche adottarsi tutta quella che è la documentazione informativa sulla trasparenza appunto sui progetti stessi. Uno delle diciamo salvaguardi, gli articoli più importanti dentro il nostro regolamento è quello che riguarda la cosiddetta lista delle operazioni che chiaramente consente a tutti i cittadini, a tutti quelli che sono interessati di capire quali sono i progetti che hanno ricevuto finanziamento sia nazionale che europeo all'interno della politica di coesione. Come stavo dicendo appunto sono loro i responsabili della pubblicazione di queste liste dell'operazione e fino a questo momento, fino all'anno scorso era molto difficoltoso per tutti gli attori che erano interessati ad accedere a queste informazioni effettivamente andare a compilare un database comprensivo di tutte queste liste dell'operazione. Noi siamo arrivati, in circa due anni fa abbiamo avuto quest'idea appunto di creare un database, un portale dove tutti i cittadini, tutti coloro che siano interessati possono effettivamente andare a cercare quali sono i progetti che sono stati finanziati nella loro città, nella loro regione ed in Europa in generale. Il portale si chiama Coesio, che è Knowledge About Cohesion Policy, quindi conoscenza sulla politica di coesione. È stato lanciato a marzo direttamente alla commissaria Ferreira, una commissaria responsabile appunto per questi fondi, durante il Cohesion Forum. L'obiettivo di questa piattaforma è fondamentalmente quella di comunicazione e trasparenza, ma è allo stesso tempo anche uno strumento al servizio della politica stessa per tentare di capire quali sono fondamentalmente gli indirizzi strategici che sono stati presi anche dalle regioni e chiaramente poi usufruire di queste informazioni per la programmazione successiva. Questo sito è un chiaro esempio di una collaborazione con le autorità di gestione, poiché appunto, come abbiamo detto, sono loro a scegliere i progetti, sono loro a pubblicare queste liste delle operazioni e invece noi abbiamo semplicemente aggregato tutte queste liste delle operazioni e rese pubbliche e disponibili in maniera, si spera appunto, user friendly per chiunque appunto voglia cercare delle informazioni. Il progetto, come dicevo, è partito due anni fa con un progetto pilota di cui l'Italia è stata parte anche perché Coesio prende diciamo spunto da quelli che è l'esperienza dei portali nazionali ed effettivamente qui vorrei menzionare Open Cohesione perché Open Cohesione è uno dei portali che ha anche ispirato coesio ed è fondamentalmente un allargamento a tutti i paesi di quelle che sono anche le informazioni che sono disponibili su Open Cohesione. La piattaforma copre tutti e 27 gli stati membri dell'Unione Europea e copre i tre fondi della coesione, ovvero il Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Cohesione. Per quanto riguarda questa programmazione noi abbiamo tutti i progetti che sono stati selezionati per finanziamento europeo a partire dal 2014 quindi per la programmazione del 2014-2020. Il progetto Coesio è stato lanciato ma non è finito, anzi diciamo forse a metà del suo percorso si spera che appunto abbia abbia lunga vita anche perché appena saranno selezionati i progetti del nuovo periodo di programmazione quindi il 21-27 procederemo ad acquisire i dati anche di questi progetti quindi vi raccomando di consultarlo frequentemente, assolutamente. Per quanto riguarda appunto la procedura noi abbiamo raccolto tutti questi dati e chiaramente abbiamo standardizzato il contenuto di questi dati e finalmente li abbiamo resi pubblici. Il risultato è 1,5 milioni di progetti che sono finanziati dalla politica di coesione per un totale investimento in Europa di circa 500 miliardi di euro e 500 mila beneficiari quindi vi immaginate un pochettino i numeri quanto possano essere appunto grandi. Il modo, se passiamo adesso brevemente al portale in sé per sé, vedete che il modo più facile di navigare il portale è attraverso la mappa. Se vi spostate con il vostro mouse su uno di questi, su ognuno dei paesi vedete che c'è un numero di progetti che appare. In Italia per esempio sono oltre 739 mila progetti. In questo caso potrete chiaramente andare anche più nel dettaglio, andare a vedere per esempio quali sono i progetti in Sardegna, sono circa 8 mila, oppure in Lombardia sono 194 mila o in Piemonte, in Emilia Romagna e così via. Potete anche usufruire della funzionalità Project Near Me che vi mostrerà fondamentalmente un numero di progetti attorno a voi. Chiaramente io sono basato a Bruxelles quindi i progetti che vedo sono quelli che sono stati finanziati nei dintorni di Bruxelles. In questo caso posso per esempio scendere ancora di più a livello e vedete che la localizzazione può essere veramente molto dettagliata. Noi siamo in questa zona qui per esempio di Etterbeck e vedete che se noi clicchiamo su questo punto abbiamo accesso fondamentalmente a tutti quelli che sono i progetti che sono stati finanziati in questa località. Una cosa che è anche interessante è che in alcuni progetti sono stati selezionati dalle autorità di gestione come particolarmente importanti quelli che sono le best practice. Questi sono fondamentalmente evidenziati da questo pallino rosso che proverò adesso a cliccare. Se cliccate su un progetto qualsiasi sia, esso sia appunto sia uno highlighted quindi best practice oppure no, ci sarà sempre quella che chiamiamo la project fish. Questa project fish in questo momento il portale è tutto in inglese ma entro la fine dell'anno sarà disponibile in tutte e ventiquattro le lingue ufficiali dell'Unione Europea. Quindi questo è anche molto importante perché chiaramente tutte le informazioni saranno disponibili in italiano però anche per tutti per esempio i nostri partner europei avranno la possibilità di vedere per esempio in inglese o nella loro lingua nazionale tutti i progetti che sono stati per esempio finanziati in Italia e viceversa. Questo progetto come vedete riguarda la costruzione cioè di fibra ottica, lo sviluppo di fibra ottica nella French Guayana. In questo caso per esempio possiamo, perché è un progetto che è una best practice, abbiamo anche delle informazioni principali e qui ci, delle informazioni dettagliate, qui ci ricolleghiamo a quello che ha detto Matteo perché se clicchiamo su questo link, read further about the project, leggere di più sul progetto andiamo a finire di nuovo su InfoRidge. Quindi cominciamo a creare una cross reference tra tutti i vari siti in modo tale da rendere la fruizione dell'informazione più semplice possibile all'utente. Qui potete vedere che questo progetto ha, c'è una descrizione dettagliata del progetto e c'è anche un video. Se torniamo brevemente sul progetto, su Coisio, abbiamo visto fondamentalmente il modo di interfacciarsi con la piattaforma attraverso la mappa ma c'è anche la possibilità di cercare dei progetti attraverso quella che appunto è la pagina progetto. Come vedete la pagina progetto potete ricercare i progetti che vi interessano, nell'area che vi interessano attraverso questo box della keywords. Una delle cose più importanti in questo momento a livello di news, chiaramente è la guerra in Ucraina, è chiaramente una delle difficoltà, delle challenges che dobbiamo affrontare quella del flusso dei rifugiati. Quindi per esempio se ricerchiamo refugee, come ho detto fino adesso è soltanto in inglese ma presto sarà disponibile anche in tutte le lingue, vedete che ci sono circa 8 mila progetti che hanno a che fare con refugees, quindi che hanno ricevuto finanziamenti europei e nazionali in questo ambito. Come vedete la nostra keyword è anche in un certo senso la ricerca si espande a dei concetti che sono similari, per esempio anche se non sono chiaramente perfettamente coincidenti, per esempio il concetto di migrante è chiaramente possibilmente correlato a quello di rifugiato. Abbiamo la possibilità quindi di scegliere per esempio un'altra un'altra parola chiave e per esempio filtrare per quello che è un paese e quindi in questo momento vado per esempio sull'Italia e un fondo che è per esempio l'European Regional Development Fund che ovvero il FESDR. Se clicchiamo su show results accediamo fondamentalmente a circa 130 progetti che appunto sono sull'ambito di migranti finanziati dal fondo di sviluppo regionale europeo in Italia e c'è questo progetto molto interessante che è Emergency Housing Project. È un progetto che se riesco ad accedere, esatto, si è basato in Puglia e fondamentalmente quello che fornisce alloggio alle persone che sono state vittime di caporalato nel settore appunto dell'agricoltura in Puglia. Vedete quindi che ci sono diverse localizzazioni del progetto, c'è un budget totale, quello di circa 5 milioni e mezzo e il 75% di questo progetto è stato finanziato direttamente dall'Unione Europea attraverso lo European Regional Development Fund, quindi il FESDR. Come vedete ci sono anche delle altre informazioni, per esempio la data di inizio del progetto, la data di fine del progetto, chi è l'autorità che è competente per questo progetto, ovvero il Ministero dell'Interno. E anche il tema sul quale questo progetto insiste, nonché il beneficiario. Il beneficiario è una delle cose che possiamo andare ad indagare sul coesio, possiamo andare a capire quali sono tutti i progetti che sono stati assegnati ad un certo beneficiario. In questo caso Apulia è la Regione Puglia e vedete che la Regione Puglia è correlata a dei progetti che hanno circa 589 milioni di finanziamento e sono fondamentalmente oltre 25 mila. Una cosa importante da capire è che chiaramente noi abbiamo il beneficiario, però non sempre i soldi che vengono attribuiti al beneficiario restano al beneficiario. Nel caso della Regione Puglia per esempio ci sono tantissimi subcontractors in questo caso che per esempio implementeranno i fondi nello specifico. Se andiamo per esempio a vedere ancora i beneficiari, abbiamo la possibilità di vedere tutti i beneficiari dell'Unione Europea e qui mi concentrerei per esempio, abbiamo la possibilità anche qui di ricercare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ovvero il CNR. Vediamo se siamo stati bravi, esatto. Vedete che possiamo trovare il Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha circa 280 progetti per un totale di 301 milioni e sappiamo esattamente tutto quello che stanno facendo in termini di progettualità che sono state finanziate dall'Unione Europea. Sappiamo anche la divisione per esempio per quanto riguarda il FESD e per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo. Eccoci qui. Quindi direi che questo è uno strumento molto importante per varie ragioni. È uno strumento di comunicazione poiché ci aiuta e aiuta tutti gli attori coinvolti all'interno della politica di coesione di andare per esempio a recuperare delle progettualità che sono particolarmente interessanti da un punto di vista comunicativo, per esempio la fibra ottica o per esempio il rifacimento di un palazzo storico in una città particolare e andare a fare poi delle campagne di comunicazione ad hoc mirate per divulgare quanto più possibile i risultati di questa politica. È chiaramente un progetto estremamente importante da un punto di vista della trasparenza, poiché tutti avranno accesso alle informazioni su chi fa cosa. Quindi questo è estremamente importante. E per ultimo, ma sicuramente non è una cosa su cui passarci sopra, è uno strumento informativo e di programmazione della politica di coesione. Ecco qui. Quindi in certo senso mi fermerei qui. Vorrei soltanto menzionare appunto che Coesio andrà avanti nel prossimo periodo di programmazione e quindi veramente vi invito a consultarlo e vedere esattamente cosa stiamo facendo. Mi fermo. Ah, forse un'ultima cosa molto importante che non ho menzionato è il fatto che tutti i dati sono disponibili in formato open, in formato aperto, quindi chiunque vuole utilizzare questi dati può farlo sia per fini commerciali che per fini non commerciali. Mi fermo qui. Grazie mille. Grazie molto Roberto e grazie anche a Matteo. Preziosissimi questi strumenti informativi che avete presentato e di grandissima utilità. Abbiamo qualche domanda che vi porrei subito, in realtà non tantissimi, il che vuol dire che siete stati super chiari e super esaustivi. In particolare una delle prime domande chiede se questo strumento portentoso che è Coesio, se è previsto uno strumento simile che raccolga le informazioni sui progetti cofinanziati dal PNRR, se è previsto uno strumento similare, Roberto chiedono i nostri partecipanti. Allora, so che ci sono delle cose che si stanno sviluppando, questo non so ancora, perché chiaramente ci sono dei requisiti di trasparenza riguardo anche le liste delle operazioni che sono finanziate dal PNRR, ma non sono in questo momento nell'orizzonte di Coesio, però sicuramente qualche cosa si sta muovendo. Ci sono delle associazioni per esempio in Italia, so che Moniton è particolarmente attiva, è un'associazione che fa monitoraggio degli investimenti pubblici e anche Open Police si stanno muovendo in questa direzione. C'è il portale sicuramente già informativo dei ministeri competenti in Italia, in cui si possono già vedere per esempio tutte quelle che sono le milestone del PNRR. Perfetto, grazie. Poi un altro partecipante in realtà chiedeva chiarimenti sulla copertura geografica. Ci sono due domande poste dallo stesso partecipante, una è per Claudio e una è per Matteo, ma in realtà chiedevano una distinzione perché nell'ultima mappa che ha fatto vedere Matteo c'era anche una copertura per quanto riguarda i paesi, gli stati non membri e quindi un partecipante chiedeva perché anche i paesi candidati per quanto riguarda la politica di coesione. Un po' lo aveva accennato a Claudia, quindi non so Matteo se vuoi chiarire che per l'obiettivo cooperazione territoriale nell'ambito della politica regionale sono interessati anche quegli stati. Esatto, esatto. Sono i programmi interreg e quindi sono interessati anche quegli stati e poi forse la cartina può anche trarre in inganno perché ci sono questi cosiddetti territori d'oltremare che appartengono a Francia o Portogallo o Spagna che non sono fisicamente geograficamente in Europa ma sono parte dell'Unione Europea, solo quella. Però se no la politica strettamente di politica regionale è solo per gli stati membri. Infatti non c'è più nessun finanziamento, ad esempio con la Gran Bretagna al momento. Perfetto, grazie. Una domanda in diretta ci chiede Salvatore Zinna. Vorrei fare presente che con la nuova stagione dei fondi europei si consolida l'orientamento di implementare e valutare i programmi e i progetti sui risultati effettivi. Quindi non era una domanda, era una considerazione, ma diciamo che questi strumenti informativi portentosi, mi permetterei di definirli così, vanno proprio in quest'ottica di accantabilità e di monitoraggio civico per rendere insomma i cittadini in grado di poter monitorare e chiedere conto fondamentalmente di come vengono investiti e cosa viene finanziato sul territorio con la politica di sviluppo regionale. Quindi siamo tutti noi chiamati a fare come dire un sorta di controllo di monitoraggio civico di cosa realizza l'Unione Europea, cosa riusciamo a realizzare sul territorio grazie ai finanziamenti che mette a disposizione l'Unione Europea. Non ci sono altre domande, quindi vuol dire che siete stati bravissimi e super esaustivi. E non so se volete aggiungere un monitoraggio civico con dati ufficiali, dice Silvana Lizzi, sì, e infatti come diceva anche Roberto, il fatto che i dati siano resi disponibili anche in formato aperto va proprio in questa direzione, l'utilizzabilità dei dati e l'apertura degli stessi. Anche open coesione a livello nazionale, Roberto è uno strumento molto utile che è già vigente da qualche anno sulla programmazione corrente. Se non ci sono altre domande, non so se volete aggiungere, capitalizziamo questi dieci minuti che residuano, se volete aggiungere qualcosa, fare qualche precisazione o qualche approfondimento. Italia Domani, dice Gianni Stasi, certo il sito d'Italia Domani è il sito del PNRR, quindi anche lì ovviamente, come diceva Roberto, oltre alle mail sono gli obiettivi strategici, probabilmente sarà implementata una sezione che darà conto di come vengono ragionevolmente, di come vengono impegnati e utilizzati i fondi del PNRR che ricordiamo hanno un orizzonte temporale abbastanza breve, perché fino al dicembre duemila e ventisei, quindi come dire. Sì, io volevo approfittarne per ringraziare sia Roberto che Matteo, perché quest'anno appunto hanno dato un contributo in questa lezione delle fonti di informazione prezioso. È stato molto importante quello che avete fatto vedere. L'inforegio, noi per esempio con Raffaella lo abbiamo utilizzato in passato perché dovevamo organizzare delle visite di studio nell'ambito dei fondi strutturali con i romeni e noi abbiamo contattato le autorità di gestione andando sul sito in foreggio e quindi accedendo alle informazioni di tutte le autorità di gestione degli altri paesi. Quindi in realtà sono strumenti di lavoro preziosi di cui probabilmente molte volte non siamo consapevoli e ci fa piacere di proporre sempre queste giornate informative proprio per ricordare che ormai gli strumenti ci sono e si tratta soltanto un po' di conoscerli e imparare a surfare web, come dicevano i ragazzi, del video iniziale. È anche un po' l'obiettivo di questo ciclo Lezioni d'Europa, questo format ideato brillantemente dall'Università di Siena e che è stato esteso poi a questo largo partenariato. Proprio vogliamo aiutarvi ad accrescere la consapevolezza e le informazioni sulle istituzioni ma sulle politiche europee. Ecco Massimiliano Montini che è il coordinatore scientifico dello Europe Direct dell'Università di Siena e che è un po' l'ideatore di questo format. L'obiettivo è proprio quello di accrescere la consapevolezza e le informazioni su quanto l'Unione Europea fa al fine anche di poter avere una partecipazione più attiva nel cogliere le tantissime opportunità che ci mette a disposizione. Sì, grazie. No, visto che siamo stati un po' chiamati in causa e che c'è qualche... Io lascio sempre, come dire, la possibilità prima ai nostri partecipanti di fare domande più che a noi stessi organizzatori. Intanto vorrei raccontare comunque qualche esperienza che noi abbiamo fatto negli anni scorsi, ad esempio coinvolgendo le scuole in progetti legati a Open Coesione e quindi ad esempio progetti fatti da studenti delle scuole superiori che sono andati ad esempio utilizzando il sito di Open Coesione a monitorare i progetti svolti finanziati all'Unione Europea nella loro area geografica e che ha avuto... ha un grande effetto anche di conoscenza di cosa l'Unione Europea effettivamente fa. Ecco, chiederei magari ai relatori, se voi avete conoscenza di esperienze simili fatte o di reti europee, ad esempio, che coinvolgono magari giovani a livello di scuola o di università, perché questo è un modo, a mio avviso personale, diciamo molto interessante per far conoscere soprattutto ai più giovani cosa effettivamente l'Unione Europea fa e quanto l'Unione Europea è presente sui territori, no? Che è uno dei 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 problemi, no? Del dell'euroscetticismo in certe aree dell'Unione Europea, che l'Unione Europea viene percepita come molto lontana, anche se poi in realtà finanzia molte attività, molti progetti proprio su tutti i territori, anche quelli, anzi, soprattutto quelli più marginali e quelli che hanno più bisogno di supporto economico. Ecco, non so se voi avete conoscenza di qualche esempio del genere che si potrebbe utilizzare anche come best practices, anche forse in prospettiva per mettere in correlazione magari in progetti internazionali le scuole italiane con quelle di altri paesi, che potrebbe essere un'idea per il futuro. Allora, inizierei da a scuola di open coesione che conosciamo molto molto bene, perché io ho partecipato diverse volte a eventi sia a Roma, sia riceviamo sempre a Bruxelles la scuola vincitrice di quello che poi alla fine è anche un concorso, una competizione, ma non solo, diciamo, la scuola di coesione, come si è detto, invita gli studenti a monitorare progetti cofinanziati all'Europa nella propria area e a sviluppare dei progetti, cioè monitorare e fare anche i progetti di comunicazione. Ma questo progetto è talmente bello e talmente buono che cosa ha fatto la Commissione europea? Proprio noi abbiamo contattato il team di open coesione e abbiamo chiesto, ma riusciamo a esportare questo modello in altri paesi? E quindi con il team di a scuola di open coesione abbiamo rifatto, per parola siamo ancora in una fase embrionale, non è così espansa come in Italia, lo stesso progetto in altri cinque paesi europei. Quindi per dire questo è esattamente un'ottima cosa. Poi soprattutto quest'anno, che è l'anno europeo dei giovani, possibilità di incontri, sviluppi, progetti, eventi legati alla gioventù ce ne sono parecchi, ne vorrei menzionare uno che è relativamente noto, è questo Discovery U, non so se avete presente, praticamente viene a tutti, no a tutti, a un numero abbastanza elevato di diciottenni, viene regalato quello che era il biglietto Interrail una volta, per scoprire l'Europa e raccontarla. E ci sono dei bandi biannuali, se non erro, dove vengono selezionati un numero che può essere 50-60 mila, adesso non ricordo, di persone per farvi viaggiare e scoprire l'Europa. Questa è una cosa molto semplice e selettiva, ma in realtà progetti di cooperazione per e con i giovani ce ne sono parecchi, diciamo, sotto diverse direzioni generali. In modo poco trasparente però, questo non lo so dire come è fatta la selezione, però... Ma noi abbiamo dato l'informazione su Discovery U perché abbiamo organizzato alcune giornate informativi per i giovani. In realtà non è che in modo poco trasparente, sul portale europeo per i giovani c'è il link a questa opportunità, ci sono due tornate l'anno, come diceva Matteo, di cui la seconda è ottobre, dipende se si è nati nella prima parte dell'anno o nella seconda, se si può partecipare, diciamo, a febbraio oppure a ottobre. Non è che non sia trasparente, che noi comunque qui, diciamo, forse siamo colpevoli anche noi, noi cerchiamo di organizzare quanto più possibile l'informazione sul territorio. Purtroppo non sempre raggiunge ancora tutti. Noi organizziamo giornate informative per i giovani, se online, che in presenza nei territori. Poi se non riusciamo a raggiungere tutti, non so da cosa dipende, devo essere sincera. Comunque per queste informazioni il portale europeo per i giovani penso sia abbastanza esaustivo per dare questo tipo di informazioni. Sì, e poi anche in realtà è molto trasparente perché appunto in queste due tornate, l'ultima si è conclusa ad aprile e ora la prossima, come diceva Claudia, sarà a ottobre, perché danno 30.000 voucher a ogni tornata. In realtà poi i ragazzi sono chiamati ad applicare online, a rispondere a cinque quesiti, a cinque domani sull'Unione Europea e poi chi, secondo alcuni criteri, chi risponde prima e meglio, viene premiato con questi voucher che consentono appunto di viaggiare e conoscere la e le culture europee. Bene, forse per una volta riusciamo a non sforare i nostri tempi e quindi a chiudere rispettando... C'è un'ultima richiesta, cioè se il video sarà messo a disposizione online tutti i nostri webinar sono videoregistrati. La pagina che avete utilizzato per iscrivervi è la stessa pagina sul quale poi viene caricata la videoregistrazione ed eventuali slide che vengono proiettate nel corso della giornata. Quindi avete tutto a disposizione online su Eventi PA. Sì, dateci solo il tempo di caricare materiale, anche per gli attestati vi preghiamo di non sollecitarli perché abbiamo bisogno di qualche giorno per attestare la vostra partecipazione. Segnalo che purtroppo, nonostante l'invito fatto a inizio webinar, di loggarsi, di accedere in aula col proprio nome e cognome per rendere tracciabile la partecipazione, ai noi ancora abbiamo riscontrato qualche partecipante con codici alfanumerici o con solo le iniziali, pertanto ovviamente queste persone non sono tracciabili e quindi non potranno poi scaricare l'attestato. Quindi magari questa informazione, capitalizziamola per il prossimo appuntamento, qualora fosse di vostro interesse questa introduzione sulla progettazione, su come si partecipa a un bando europeo, iscrivetevi nella relativa pagina su Eventi Pia e per favore fate accesso con nome e cognome, così preveniamo e ovviamo eventuali disguidi di questo tipo. Se posso, Claudia, vorrei oltre a rinnovare il ringraziamento a te e a tutti i relatori, ma a te ti conoscevo, quindi già lo sapevamo, sono impliciti i ringraziamenti a te e anche per la selezione musicale che hai fatto durante il ciclo con questa novità di apertura dei video musicali molto carina. Ringraziamo i nostri relatori, ma tutti i partner, quindi ricordiamo l'Università di Siena, il professor Montini, Angelita Campriani, Marta Ferrantelli dello Europe Direct di Trapani Sicilia e i colleghi di Roma 3, Ludovico Carino che è il nostro collega che preziosamente ci supporta nella gestione dell'Aula e anche i colleghi della rinnovazione digitale che ci mettono a disposizione questa piattaforma come amministrano, diciamo, questo spazio online che abbiamo. Se volete aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo e ultimo incontro e speriamo di vedervi numerosi come sempre, come avete fatto durante tutto questo ciclo del 2022. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie mille. Grazie. Grazie a rivederci a tutti e grazie ai partecipanti che ci stanno seguendo ormai assiduamente. Pedelissimi, ci fa molto piacere. Grazie a tutti, grazie e complimenti a tutti. Arrivederci. Arrivederci.